buonasera a tutte e a tutti e vi ringrazio per la partecipazione numerosa io sono daniela moro sono professoressa associata presso il dipartimento di studi umanistici corso di laurea in lingue culture dell'asia orientate dell'asia dell'africa scusate dell'università degli studi di torino siamo qui per un ciclo di tre incontri con la dottoressa Sonia Favi che è ricercatrice Marie Curie a Manchester con il dottor Stefano Turina che è dottorando presso il dipartimento di studi storici della nostra università e con il dottor Claudio Perino che è collezionista di oggetti d'arte giapponese ed è molti degli oggetti che sono presenti al Mao in special modo kakemono e libri illustrati sono appunto del dottor Perino e quindi il ciclo di incontri che inauguriamo oggi è un ciclo di incontri che è dedicato al viaggio e ne abbiamo tutti bisogno in questo momento di viaggio è un viaggio virtuale però coadivato da materiali digitalizzati della biblioteca John Rylands di Manchester e anche da materiali presenti al Mao in particolar modo non questa volta non in questo incontro ma nei prossimi in particolar modo ci saranno dei kakemono che sono dei rotoli dipinti e che su cui vorrei porre l'attenzione perché sono saranno poi alcuni di loro esposti durante la mostra che si terrà in autunno appunto sui kakemono e quindi io ringrazio la relatrice e i relatori di oggi moltissimo e ringrazio anche il direttore direttore Marco Guglielminotti del del Mao che insomma ha collaborato a questo a questo evento e a cui adesso lascerei la parola per i saluti buongiorno mi sa che ho il video bloccato mi dice che è impossibile avviare il video perché è stato interrotto dal loro organizzatore ok ok ci sono eccomi eccomi buonasera buonasera a tutti e grazie della presentazione grazie al dipartimento di studio umanistice dell'università grazie al cesa o grazie anche all'università di manchester anche se indirettamente alla dottoressa fave dottor perino dottor turina che insomma a parte la dottoressa fave con il dottor turina ci conosciamo da anni e con il dottor perino da da decenni ormai per cui siamo tra tra amici e sì lei grazie professoressa moro che ha già anticipato insomma tutto quello che io avrei potuto dire cioè il fatto che il museo promuova in qualche modo questo occasioni questo genere di discussione di presentazione anche di importanti progetti internazionali in questo caso appunto la john rylans library di manchester questo progetto appunto di digitalizzazione delle mappe giapponesi che è un progetto importante ovviamente per tutti noi che ci per la cultura in generale ma per noi che ci occupiamo di di oriente in particolare quindi è bello che ci sia questo collegamento anche grazie ai nostri cervelli altrove per no per poter tornare poi anche a un pochino al a noi al nostro paese e come diceva appunto questa idea del viaggio è azzeccata visto il periodo questa questa iniziativa avrebbe dovuto per l'appunto anticipare di poco un'inaugurazione di una mostra importante sui kakemono proprio creata grazie alla collezione del dottor perino che avrebbe dovuto inaugurare nel marzo dell'anno scorso pensate un po invece adesso abbiamo dovuto rimandare ulteriormente fino all'autunno di quest'anno per motivi che potete ovviamente immaginare però ecco questo è comunque il modo per parlare un pochino di giappone anche legato al museo non abbiamo fatto in questo ultimo anno vogliamo bene questa occasione siamo felicissimi e vi auguro appunto tre incontri molto proficui e speriamo di trovare qualcos'altro da fare un po prima e anche durante la la mostra che appunto dovrebbe aprire l'undici di novembre andare avanti fino al venticinque di aprile del prossimo anno grazie a tutti grazie della attenzione e buon incontro buonasera grazie a lei direttore ecco io non ho altro da aggiungere ehm quindi lascio la parola eh alla dottoressa Favi e appunto per le domande vi ricordo che eh potete scriverle in chat e poi eh le vediamo alla fine vi ringrazio grazie mille professoressa Moro io ho condiviso lo schermo spero che si veda sì perfetto adesso condivido anche la presentazione allora buongiorno buonasera anzi a tutti eh io partirei dandovi un pochettino di informazioni di contesto sulla Giappone di epoca Edo che è un periodo storico che va dalla 1603 al 1868 in modo che abbiate un po' una prospettiva sul sulla eh diciamo background di quello di cui andremo a discutere nei prossimi tre incontri. Dunque il periodo Edo o periodo Tokugawa è un periodo che si apre agli inizi del diciassettesimo secolo in Giappone dopo una lunghissima fase di lotte intestine. Eh il Giappone praticamente per tutto il sedicesimo secolo per tutto il cinquecento è scosso da una guerra civile eh che vede diversi signori locali quelli che venivano chiamati dagno in una lotta dagli uni eh con gli altri per il controllo del territorio e che vede l'assenza di l'assenza di qualsiasi autorità politica centrale. Esisteva in teoria l'imperatore che risiedeva a Kyoto ma di fatto non aveva nessun tipo di eh potere politico e eh agli inizi del diciassettesimo secolo precisamente nel 1600 una famiglia una di queste famiglie militari la famiglia Tokugawa eh batte eh sconfigge eh in una coalizione le altre famiglie militare in una battaglia storica che è la battaglia di Sekigahara che le permette di prendere il potere un potere che poi sancita ufficialmente quando nel 1603 eh l'imperatore nomina la famiglia Tokugawa assegna alla famiglia Tokugawa il titolo di di shogun che era il la più importante carica militare che si potesse rivestire in Giappone e si viene a creare una situazione politica a questo punto che è una specie di federalismo nel senso che i Tokugawa come shogun controllano in modo diretto circa un terzo del territorio giapponese e assegnano il controllo del resto del territorio che è suddiviso in tante piccole unità circa 250 a altri daimio loro vassalli che hanno loro giurato fedeltà e questi daimio governano i propri territori in una parziale autonomia però allo stesso tempo delegano al delegano alla allo shogun le decisioni su tutta una serie di questioni di politica sia interna ai loro territori che in generale nazionale o estera si viene a creare questo equilibrio politico che come potrete immaginare dopo più di un secolo di guerra poteva essere piuttosto precario e per via di questa precarietà i Tokugawa mettono in piedi tutta una serie di misure pensate per mantenere la stabilità politica tra queste misure e qui arriviamo al tema dei nostri incontri se ci sono alcune restrizioni sui viaggi vengono vietati i viaggi all'estero e su questo torneremo meglio nell'incontro della prossima settimana e vengono vietati tutti i viaggi all'interno del giappone che non sono essenziali e questa è una terminologia con cui purtroppo siamo familiari eh in questo ultimo periodo vengono stabiliti dei posti di blocco eh chiamati seki show lungo tutte le principali arterie stradali del giappone e eh per attraversare questi posti di blocco blocco sono necessari dei permessi di eh di viaggio guai a e cercare di evitare questi posti di blocco perché se si cerca di farlo eh si viene sospettati di eh attività di ribellione contro i Tokugawa si rischia persino di essere condannati a morte e i Tokugawa governano su questo sistema dalla loro capitale la la città eh dove è costruita la eh dove è stabilito il loro quartier generale generale che è la città di Edo da qui il nome della del periodo detto ciò ciò non significava che nessuno viaggiasse nel Giappone di periodo eh Edo ovviamente c'erano delle persone che erano tenute a viaggiare per motivi di eh dovere istituzionali e di queste parleremo nel prossimo incontro ma i Tokugawa permettevano di viaggiare anche eh per una serie di ragioni così che rientravano appunto nel novero delle ragioni essenziali una di queste ragioni era la salute era possibile fare domanda per un permesso di viaggio per recarsi in una delle numerose stazioni termali del Giappone di periodo Edo e per effettuare delle cure termali l'altra ragione permessa era la religione si poteva partire per pellegrinaggi pellegrinaggi era un'esperienza tutto sommato abbastanza comune per gli abitanti del Giappone dell'epoca cosa succede? Succede che con il passare dei decenni rimane la pace la situazione di stabilità politica rimane i Tokugawa cominciano a essere sempre più generosi nel concedere questi permessi per motivi di salute o eh per motivi religiosi e accade anche che la gente se ne approfitta nel senso che abbiamo testimonianze eh dagli inizi soprattutto del diciannovesimo secolo dell'ottocento di persone che fanno domanda per viaggiare verso delle termi che sono sospettosamente lontane dal loro punto di partenza eh e abbiamo anche questo diario di viaggio del milottocento dieci purtroppo non è mai stato tradotto che racconta di come alcuni stabilimenti termali dovessero addirittura stabilire delle aree eh deputate per chi aveva effettivamente problemi di salute perché erano le terme erano letteralmente invase dai turisti stesso discorso per chi viaggiava per motivi religiosi molte persone cominciano a cercare a scegliere delle mete di pellegrinaggio che sono anche molto lontane dal loro punto di partenza e a percorrere percorsi sempre più tortuosi per raggiungerle percorrendo una rotta diversa all'andata e al ritorno e toccando sempre più tappe lungo la via si sviluppa fondamentalmente una sorta di abitudine al turismo le località che vengono toccate eh nel corso di questi viaggi sono soprattutto quelle località note come Meisho Meisho si traduce letteralmente come luogo celebre ed è un'etichetta che racchiude in verità una grandissima varietà di luoghi diversi dai luoghi eh che hanno una storia sacra luoghi religiosi come templi e santuari ma anche montagne sacre come Montefuggi a eh luoghi che sono chiamati Utamakura che sono luoghi celebri perché associati ad opere di narrativa o di poesia oppure eh luoghi ehm che sono associati a particolari eventi storici celebri ma anche a luoghi più mondani come ad esempio eh ristoranti o eh famosi o negozi famosi eccetera quindi veramente una varietà di luoghi eh possibili differenti alcuni luoghi incamano diverse di queste caratteristiche il Pugio è uno di questi ma ne parleremo meglio appunto nel corso del terzo incontro oggi faremo una specie di viaggio virtuale soprattutto nella seconda parte dell'incontro e andremo a toccare una serie di luoghi eh che si concentrano soprattutto in queste due aree nell'area di Chioto e nell'area di Edo. Perfetto. Noi allora abbiamo come prima proposta di immagini da associare a questo viaggio abbiamo vi proponiamo per l'appunto un'associazione di una poesia classica scritta intorno al settecento dopo Cristo che che potete leggere sulla sinistra inoltratomi nella costa di Tagonoura vedo il perfetto biancore sull'alta cima del monte Fuji della neve che continua a cadere questa poesia che ci viene riproposta in questa stampa realizzata da Okusai la vediamo sulla destra sulla destra nel cartiglio sulla destra e il monte Fuji dobbiamo pensare che era un che è un luogo celebre un meiscio che all'epoca era molto distante dalla capitale che si trovava per l'appunto a Chiotto e e quindi in questo caso noi abbiamo un il collegamento tra un luogo celebre antico della letteratura classica il monte Fuji e il il turismo il viaggio il viaggiatore moderno il viaggiatore moderno che Oksai ci ripropone sulla parte in basso a sinistra alla destra della stampa e nella portantina si Kusai non mostra chi poi chi è la persona che viene trasportata durante questo viaggio persona che potrebbe essere il poeta che contempla il Fuji in questa in questa chiarissima giornata invernale riprendo a parlare io per se volete diciamo un po vivere l'atmosfera di questi viaggi per piacere del periodo Edo vi consiglio assolutamente di procurarvi questo libro che è un libro di narrativa anche se come era tipico includeva anche delle parti poetiche che per nostra fortuna è stato di recente tradotto in italiano questo quest'opera che di Gippen Shaiku che si chiamava in originale Tokaido Chui Hizakurige è un'opera che venne pubblicata nel 1802 fu un vero e proprio best seller nel Giappone dell'epoca e raccontava appunto un viaggio di due amici mercanti di Edo della capitale dei Tokugawa un po senza tenevarte che si chiamano Yagi Echita e che si imbarcano in questo viaggio diretti a Ise al santo uno dei santuari più visitati ne riparleremo nella Giappone dell'epoca e eh Ise è un santuario quindi il viaggio a tutti gli effetti un pellegrinaggio ma di fatto della ragione religiosa del loro viaggio a Yagi Echita importa pochissimo tendenzialmente quello che che fanno è godersi la vita sulla eh sulla strada ehm e eh appunto visitare Meisho lungo la via visitare i ristoranti visitare Locande con anche una detour finale verso la città di Chioto che è il punto appunto in cui si conclude eh il loro il loro viaggio e questa questa diciamo ragione mondana dietro i loro spostamenti è reiterata a più ripresa all'interno del testo eh qui abbiamo appunto i nostri protagonisti sono Yagi Echita due sfaticati residenti nella zona di Kanda Aciobori che era appunto la zona una zona mercantile di Edo i quali mossi dal desiderio di recarsi sette volte in pellegrinaggio a Ise eh hanno lasciato le loro case come due debosciati con molta calma e senza affaticarsi sono arrivati a Hapone provate la nostra specialità assaggiate una coppa di sake dolce quindi ripeteva un anziano venditore lungo la via e ovviamente Yagi Echita subito accolgono l'offerta perché a loro interessa Elsa che più chiede nello specifico e penso che questa citazione che vi ho inserito incarni molto lo spirito dell'opera in generale lo spirito del viaggio ricreativo di epoca Edo eh per quanto tu sia in fuga dalle angosce della vita puoi sempre prenderti il tempo che ti serve intrattenerti lungo la via come se stessi facendo una semplice gita fuori porta e poggiare il Taro su una tante delle radici dei filari scusate io non leggo perché eh coperto da voi però aprire il barriere di sake che aveva intenzione di offrire al dio compira è un po' blasfema anche questa parte diocompira era una eh divinità sinto eh protettrice dei mercanti però anche qui si vede com'è diciamo la la l'elemento religioso del viaggio tende a perdersi e tende a guadagnare invece importanza l'elemento del piacere del eh del viaggio e uno dei motivi per cui eh si viaggiava volentieri nel periodo eh Edo o periodo Tokugawa era il fatto anche che era più semplice viaggiare rispetto ai periodi precedenti un po' perché eh la famiglia Tokugawa aveva fatto risistemare e restaurare tutto il sistema di eh vie di comunicazione interne al Giappone soprattutto un sistema di di strade che vengono rimodernate per ragioni istituzionali e di commercio ma ovviamente poi queste strade sono utilizzate anche eh dai viaggiatori comuni e un po' anche perché in generale il livello eh di benessere della popolazione del periodo Edo aumenta esistono delle sacche di povertà eh soprattutto in alcune zone rurali ma esistono anche molti contadini benestanti che nei periodi non di raccolto come eh l'inverno e l'inizio della primavera possono permettersi di andare in viaggio ed esiste soprattutto una classe urbana costituita da eh ricchi mercanti e ricchi artigiani che può permettersi di di viaggiare e può permettersi di viaggiare in un contesto di generale appunto stabilità politica e tranquillità quella che alcuni storici hanno definito come la Pax Tokugawa che è un contesto che viene ben introdotto sempre all'interno di Hizakurige eh con anche quella che è un po' una captazio benevolente nei confronti dei Tokugawa perché queste opere dovevano essere sottoposte al visto della censura prima di essere pubblicate quindi non era raro incontrare appunto eh passaggi come questo. Grandi insegnamenti morali sono come i capelli nessuno di essi è torto o devia dalla retta via segno evidente della beatitudine dei nostri tempi in cui il buon nome dei guerrieri pronti a dar battaglia sopravvive soltanto nelle pitture di Azuma insieme a gracchiare dei cordi mentre gli archi e gli spadoni persino quelli in legno sono offerti in dono agli dei possenti e veloci. È dunque giunto il tempo di visitare i posti più noti del nostro paese e accumulare ricordi di di gioventù. Detto ciò eh non tutti potevano viaggiare nel senso che esistevano tutta una serie di eh obblighi istituzionali oltre che di limiti economici che potevano materialmente impedire a una persona di viaggiare. Per esempio eh il il giappone Tokugawa era caratterizzato da una gerarchia sociale piuttosto rigida. Era difficile sposarsi fa membri di diverse classi e anche fa cambiare classe. Al vertice di questa gerarchia c'erano i samurai guerrieri che erano coloro che amministravano il paese e paradossalmente proprio i guerrieri tendevano a faticare di più a viaggiare per piacere. Perché un samurai uomo tendenzialmente viaggiava normalmente per ragioni di dovere ma essendo impegnato appunto un viaggio di di dovere non poteva deviare come poteva fare per esempio un pellegrino per andare a visitare e una donna samurai era legata a obblighi matrimoniali e talvolta era anche usata come ostaggio. Di questo parleremo meglio nella nella prossima lezione. A viaggiarono soprattutto gli uomini della classe eh delle persone comuni, contadini benestanti appunto o eh membri delle classi urbane benestanti. Talvolta accompagnati dalle mogli nei registri delle confraternite religiose che ehm organizzavano i pellegrinaggi compaiono alcuni nomi femminili ma non sempre. Per le donne era più complicato se erano legate a un marito viaggiore perché avevano degli obblighi legati alla gestione della eh della casa. Diventava molto più semplice per loro viaggiare una volta che il marito moriva da vedove e la gestione della casa passava normalmente in in mano ai figli e alle nuore eh oppure era più semplice viaggiare per le eh monache. E eh abbiamo alcuni documenti eh di secchiscio di posti di blocco di periodo edo in cui compaiono nomi di donne che vengono addestate perché si stanno fingendo monache, sono scappate di casa e stanno cercando di eludere le norme per eh andare a fare un viaggio di di piacere. E c'erano alcune circostanze in cui eh era più facile che le autorità chiudessero un occhio nei confronti delle donne che viaggiavano. Per esempio il caso degli Okagemairi. Gli Okagemairi erano dei pellegrinaggi su larga scala indirizzati al santuario di eh di Ise che come dicevo era una delle mete di pellegrinaggio più più comuni. In occasione degli Okagemairi si tendeva a chiudere un occhio nei confronti delle donne che non rispettavano propriamente le regole. Ad esempio questo documento del 1830 riporta di questo gruppo di donne vestite da uomo che eh si sono cancellate il nero dai denti. Le donne ne arrivano i denti una volta sposate che portavano un vestito con scritto pellegrina in fuga e eh sfidando le autorità se ne andavano appunto verso Ise senza che nessuno facesse niente perché lo Okagemairi era un momento carnevalesco se vogliamo di eh ribaltamento di alcune norme sociali. E c'è da dire che chi non poteva viaggiare fisicamente poteva farlo virtualmente perché il periodo Edo è anche un periodo di esplosione letterale di 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 diffusione eh senza precedenti della stampa eh dell'editoria commerciale. Eh si diffondono eh tipi di carta più eh economici e comunque resistenti e flessibili che possono essere usati per formati diversi. Si diffondono pigmenti eh importati dall'estero e si produce per un mercato sempre più vasto eh si producono testi di vario genere e tantissimi testi eh legati appunto alla pratica del viaggio carto testi cartografici mappe guide di viaggio stampe policrome eccetera eccetera e ehm il mercato è ampio anche perché il periodo Edo si caratterizza per un alto livello di alfabetizzazione eh anche qui senza precedenti si pensa si calcola che circa il 40 per cento degli uomini il 15 per cento delle donne eh a fine periodo fossero quantomeno alfabetizzati. Cedo la parola. Grazie. Buongiorno a tutti. Eh in questa immagine è un trittico eh di Kunisada eh vedete eh una bottega dove vengono prodotte ehm le stampe eh xilografiche. che la xilografia era eh sostanzialmente l'unico eh sistema tecnologico per produrre immagini a parte naturalmente la pittura eh però il la la produzione di immagini eh su vasta scala quindi eh multiple erano eh sempre ehm prodotte con le xilografie. La xilografia prevedeva ehm che venisse eh preparato un disegno quindi l'autore eh preparava un disegno eh al tratto quindi era soltanto un disegno in in nero sostanzialmente il disegno veniva incollato riportato su una tavola di legno e l'incisore produceva eh un diciamo eliminando eh le parti bianche eh lasciando soltanto il tratto nero produceva praticamente una tavola che veniva poi usata come timbro. Esattamente il meccanismo del timbro eh cioè eh poi veniva appoggiata eh un un foglio di carta eh che veniva inchiostrato e in questo modo facendo aderire l'inchiostro eh alle eh ai rilievi del timbro veniva prodotta l'immagine. Poi questo avveniva anche più volte nel senso che poi le le stampe a colori ehm venivano ehm prodotte producendo più timbri e che venivano ehm poi impressi in successione a registro. Quindi sostanzialmente questa è una bottega dove tutto ciò avveniva. La bottega era posseduta da un editore che era un imprenditore quindi doveva anche far tornare eh da un punto di vista finanziario il suo investimento. Eh questi erano tutti artigiani molto abili. Ognuno aveva la sua parte, l'incisore, lo stampatore, poi quelli che aiutavano per far asciugare eh le stampe preparate eccetera. Quindi eh sostanzialmente l'artista produceva il disegno ma poi erano gli artigiani che lo rendevano eh così eh evidente e ehm e naturalmente la produzione era di eh varie svariate centinaia se non migliaia di copie. Per dare un'idea ogni immagine costava più o meno eh come eh il il costo era di un pasto di strada quindi sostanzialmente un una eh scodella di ehm di spaghetti o di riso era più o meno con un po' di di contorno era il costo di una stampa. Ovviamente il in questo caso abbiamo una parodia del del lavoro degli artigiani quanto il lavoro abbiamo prima abbiamo parlato di donne che non potevano viaggiare qui invece abbiamo delle beltà che sono uno dei tanti temi della scuola Okioe che vengono raffigurate in una professione che prettamente prettamente maschile che era quella appunto legato alla 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 realizzazione di incisioni. Come vedete anche la serie si intitola una parodia alla moda delle quattro classi. Qui nella nell'immagine successiva abbiamo una ricostruzione che è tuttora visibile all'Edo Tokyo Museum di come poteva di come poteva apparire un negozio dove era possibile acquistare il questo tipo di di stampe. Quindi abbiamo i diversi generi che della scuola Okioe e le beltà per l'appunto quindi figure femminile, film femminili, gli attori di teatro kabuki quindi uno di spettacoli teatrali e anche i paesaggi che assumono un nuovo un nuovo apice proprio in questi anni intorno ai primi anni dell'ottocento. Abbiamo abbiamo deciso di introdurre il paesaggio con un nuovo luogo celebre che viene a crearsi per l'appunto in quegli anni in cui Edo è il cuore del potere politico del Giappone. Abbiamo in questo caso una veduta di sempre di Oksai che è la porta dei dei del vento e del tuono presso Asaksa nel tempio di Kiryuzan dedicato a Kan, un tempio buddista. In questo caso in questa immagine interessante anche perché come vedete è un'immagine in prospettiva quindi che mette che utilizza la tecnica della prospettiva occidentale infatti è definita Uki-e e che quindi ci dà anche la misura di come il Giappone non fosse completamente isolato ma tramite i contatti anche con gli con gli olandesi in particolare Nagasaki e Dejima come vedremo nella prossima nel prossimo incontro avevano avuto modo di entrare in contatto con il con le con le tecniche anche di raffigurazione occidentale. Nelle immagini precedenti che accompagnavano la descrizione di Sonia avete visto pagine invece tratte da un'altra opera celeberrima di Oksai sempre che sono per l'appunto i manga. Avrete notato che a fianco dei manga c'era l'icona del museo d'arto orientale perché questa è una delle opere che vengono esposte a rotazione all'interno delle gallerie del Giappone. Un altro abbiamo parlato di generi legati appunto alla produzione del mondo Uki-oe e quindi abbiamo parlato di questo del genere del paesaggio quindi di Meisho e delle vedute qui abbiamo un connubio di generi abbiamo un attore di teatro Kabuki che interpreta un ruolo femminile quindi un'ornagata associato sempre ad Asakusa e al tempio summenzionato. Nell'immagine successiva invece abbiamo una beltà quindi un'immagine di belle donne associata in questo caso invece a un ristorante come accennava prima Sonia anche i ristoranti diventano nuovi luoghi celebri del Giappone di periodo Edo. Qui invece abbiamo di nuovo un'altra raffigurazione di beltà associato in questa volta ad un altro tempio. Oltre appunto a queste stampe i viaggi diventavano viaggi virtuali anche perché venivano creati questi giochi da tavoli Dochu Sugoroku che erano una sorta di gioco dell'oca. Venivano realizzati per l'appunto da artisti più o meno noti. Qui abbiamo un esempio risalente agli anni 60, agli 1860 scusate, in cui ci sono per l'appunto tutte le tappe del percorso da Edo a Kyoto e in questo altro esempio frutto invece di un artista ben più celebre, sempre di Oksai, abbiamo un gioco da tavolo costruito con le zone che circondano la città di Edo. Quindi Kamakura, Inoshima o Yama, zone che diventeranno poi anche celebri per i primi visitatori occidentali a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Vi invito adesso un attimo a guardare questi piccoli riquadri perché troverete le stesse figure che sono riportate anche nei manga di Oksai che abbiamo visto in precedenza e che poi accompagneranno ancora le altre diapositive. Qui poi abbiamo una versione moderna del gioco, ma lascia la parola a Sonia. È stata inserita solo come una curiosità il fatto che tutt'oggi vengono riprodotte forme appunto di questi sugoroku. Una annotazione, prima di passare al nostro viaggio virtuale, sull'impatto culturale che questa diffusione della cultura del viaggio ebbe nella Giappone Edo. Si parte all'inizio del periodo Edo da un Giappone che è segregato, segregato geograficamente perché, come vi dicevo, nel periodo precedente non c'era un'unità politica, era di fatto diviso in tanti stati differenti il Giappone. È un Giappone che agli inizi del periodo Tokugawa è segregato anche a livello sociale, nel senso che i Tokugawa, come vi dicevo, creano un ordine gerarchico tra classi molto rigido, tra cui c'è poco interscambio. Ma la cultura del viaggio contribuisce un po' a riavvicinare queste differenze, sia geografiche che sociali, perché tutti sulla strada, a prescindere dall'appartenenza sociale, salvo grosse eccezioni come ovviamente i capi militari, il Danio e le persone più comuni, tendono a condividere spazi e anche passatempi, interessi culturali e sulla strada anche si incontrano persone provenienti da parti molto diverse della Giappone. Un esempio in questo passaggio di Hizakurige si menziona come persone anche dell'est possono conoscere prodotti tipici come le patate di Satsuma a ovest e come appunto si venga a creare un interscambio culturale e questo genera anche in Hizakurige alcune gag simpatiche. Ad esempio in questo passaggio Yagi e Kita si affiancano a un samurai di una zona provinciale del Giappone e cominciano a chiacchierare sulla strada pur appunto appartenendo a classi sociali diverse e si crea un qui porco linguistico, perché Yagi e Kita dicono di essere incappati in un goma no hai alla locanda e la risposta del samurai un po' perplessa deve essere stato terribile inciampare su quella roba bollente. Questo è un gioco di parole di difficile traduzione che goma no hai letteralmente significa è la cenere generata dal bruciare l'incenso. Quindi chiaramente lui dice avete calpestato del goma no hai di siete fatti male, ma goma no hai era anche un modo di dire di Edo per riferirsi a una persona che si traveste da viaggiatore e si affianca ad altri viaggiatori in realtà per rubargli i soldi. Quindi era un furfante. Qui anche abilmente poi è stato tradotto questo gioco di parole dicendo abbiamo avuto a che fare con un goma no hai, un furfante, un'altra parola che il samurai non conosce e chiede un furfante. Cos'è un furfante? Un ladro. E appunto si viene a creare questo incontro fra culture e mi piace dire che sulla strada si viene un po' a creare la protonazione giapponese nel senso che si vengono a sanare alcune delle differenze geografiche e sociali che si erano create appunto nei periodi precedenti. E con un po' di quell'irriverenza che è tipica del Giappone di periodo Edo che abbiamo visto anche in quel gruppo di donne travestite da uomini, si vengono a creare anche dei giochi di classe sulla strada. Ad esempio in questa scena molto divertente Yagi si traveste da samurai per cercare di ottenere un trattamento economico migliore da un traghettatore per passare il fiume. E per travestirsi da samurai finge con un fodero vuoto di avere due spade. Le due spade erano la caratteristica visiva che immediatamente identificava il samurai. Erano gli unici che potevano portare due spade. E inventa appunto di essere un samurai in una importante missione per il suo signore di aver avuto un grossissimo seguito alle spalle, lanceri, guarderobieri, portatori di sandali, eccetera, eccetera, che però si sono tutti persi per strada per il morbillo e quindi di essere rimasto solo col suo accompagnatore, Kita. E se non che il traghettatore vede il fodero dello spadino piegato e lo scopre immediatamente. Però questo gioco di classe è assolutamente irriverente. Nonostante quella captazio benevolente iniziale che abbiamo visto, è sicuramente una sfida appunto alle gerarchie sociali stabilite dai Tokugawa. Dà un senso di quel senso di liberazione carnevalesco che chiedava l'essere sulla strada. E fatte queste premesse appunto, quello che vorremmo fare per il verso dell'incontro è portarvi, fingere di essere con voi dei mercanti di, diciamo, inizio ottocento e intraprendere un viaggio virtuale attraverso opere letterarie nei mei show di periodo Edo. Vi ho messo qui il link, se volete andare a dare un'occhiata alla collezione di cui parlava il dottor William Minotti all'inizio, che è quella che ho curato per la General Islands Library e potete spaziare, viaggiare virtualmente anche da soli appunto a posteriori. Noi seguiremo una rotta che è il contrario della rotta che seguono Yagi e Kita, nel senso che ci sposteremo da Kyoto verso Edo, perché a Edo poi partiremo al prossimo incontro parlando di viaggi ufficiali. E Kyoto, come vi dicevo, era la capitale imperiale, la capitale dove risiedeva ancora nel periodo Edo l'imperatore all'interno del palazzo imperiale, anche se aveva perso qualsiasi potere politico ed era sotto il controllo dei cosiddetti Kyoto Shoshidai, che erano dei funzionari dei Tokugawa che risiedevano all'interno di questa fortezza dentro Kyoto, che era il castello di Minjoo, ma nonostante avesse perso fondamentalmente qualsiasi centralità politica o anche economica. Kyoto era comunque una città celebre, era un ricettacolo di Meisho a sua volta in periodo Edo. Era famosa soprattutto per i suoi molti templi e santuari, alcuni all'interno del perimetro della città, in misura minore però perché quando era stata costruita Kyoto si era cercato di tenere separate diciamo le sfere del politico e del religioso e ad esempio il tempio Konkokuji era dentro Kyoto, la maggior parte dei templi era attorno a Kyoto, nelle colline attorno a Kyoto, ad esempio uno tempio molto celebre era il Kiyomizu Dera, su cui il dottor Turina ci dirà qualcosa. Esattamente, abbiamo deciso di proporvi questa stampa che raffigura per l'appunto il Kiyomizu Dera per farvi vedere come all'interno della produzione delle stampe di paesaggio non è solo Edo che diventa un luogo celebre ma è tutto il Giappone che viene riproposto all'interno di queste stampe. Noi non sappiamo se Utagawa Hiroshige abbia potuto viaggiare da Edo a Kyoto e abbia veduto effettivamente questo tempio o si sia basato anche lui a sua volta su resoconti e altri manuali illustrati che raffiguravano il tempio. Fatto sta che comunque un'altra celebre serie di questo abilissimo paesaggista che diventerà noto soprattutto per i suoi paesaggi e quindi sono i luoghi celebri di Kyoto. Qui come vediamo raffigura il Kiyomizu Dera e possiamo notare anche l'abilità dell'inchiostratore nello sfumato dei vari inchiostri, quindi del blu del cielo, del giallo del cielo ma anche nell'azzurro del fiume in basso che appunto ci dà la misura di quanto raffinato fosse tutto il procedimento proprio della stampa e dell'axilografia. Poi Hiroshige in questa stampa è anche abilissimo nel rendere sinteticamente il paesaggio boschivo che circonda il tempio e quindi tutta la natura che circonda questo complesso templare. Ed era anche un modo per colui che abitava a Edo di immergersi in vedute che altrimenti sarebbero state per lui lontanissime con questa altissima qualità. Dunque, siamo partiti quindi da Kyoto. Appunto, fingiamo di essere dei viaggiatori di periodo Edo e di doverci recare a Edo. Di cosa ci dobbiamo preoccupare? Al giorno d'oggi ci preoccuperemo di prenotare un volo, del bagaglio, eventuali visti, eventuali assicurazioni di viaggio, eccetera. Il viaggiatore dell'epoca innanzitutto tendenzialmente si muoveva in gruppo. Per i pellegrinaggi, i pellegrinaggi in molte occasioni erano organizzati da confraternite religiose, quelli che venivano chiamati Po, e ci si muoveva sempre in gruppi anche di cento persone verso la meta designata. Questo perché, per quanto ci fosse la Pax Tokugawa e la situazione fosse più tranquilla, si poteva sempre incorrere in problemi lungo la via. Prima vi menzionavo il Gomano Hai, in cui sono incappati gli Aji e Kida, e qui c'è il passaggio appunto di Hitakurige, in cui effettivamente lo incontrano. Ci poteva essere il problema di ammalarsi in viaggio, il morbillo ancora menzionato all'interno di Hitakurige, o ad esempio semplicemente si potevano finire i soldi. Però tendenzialmente, ralamente almeno in gruppi di due si viaggiava, e molto spesso anche in gruppi più numerosi. L'altra cosa importantissima da procurarsi era, per le ragioni che vi dicevo all'inizio, lo tsuko kegata, o permesso di viaggio. Vi ho riportato la foto di questo, che è ovviamente una riproduzione, che ho preso a Tokyo l'anno scorso. Appariva così, erano tavolette di legno scritta sopra l'autorità che emanava appunto il permesso. In questo caso il Kyoto Shoshidai. Quindi non sarebbe stato un permesso per noi, perché i Kyoto Shoshidai tendenzialmente emanavano permessi per i VIP, per quelli che viaggiavano per conto dei Tokugawa. E presentare questo tipo di permesso con il nome del Kyoto Shoshidai sopra voleva dire in molte occasioni viaggiare gratis, che le locande o i ristoranti non facevano pagare la prestazione. Normalmente una persona comune, come poteva essere un mercante, riceveva invece il permesso dalle autorità locali, e in quel caso doveva pagare per i servizi di cui usufruiva sulla strada e di solito tra l'altro non a prezzo fisso, si contrattava, come faceva Kita con il traghettatore, Iagi scusate, con il traghettatore nella scena che vi ho descritto. Quindi un'altra cosa a cui bisognava pensare era il budget. Quanti soldi portarsi e come distribuirli per appunto pagare transiti, per pagare ristoratori, per pagare locande e quant'altro. Esisteva una forma primitiva di banconota, però soprattutto ci si muoveva di solito con le monete, che potevano essere in rame, in argento o in oro. Di solito si partiva con argento e oro, perché l'argento e l'oro valevano di più, e quindi se ne doveva portare meno e pesava meno, perché a parte i samurai, e di questo parleremo meglio la prossima volta, ci si muoveva a piedi, non a cavallo, tendenzialmente. Il rame si poteva ottenere sulla strada, normalmente le transazioni si effettuavano con rame, ma si poteva cambiare lungo la strada l'oro o l'argento. E per la stessa ragione bisognava essere parchi con il bagaglio, perché muovendosi a piedi non si poteva essere appesantiti, bisognava assolutamente avere alcune cose, come un ricambio di sandali, perché si consumavano, ma il bagaglio doveva essere leggero. Chi se lo poteva permettere in generale lo spediva. C'era modo di spedire il bagaglio a destinazione, o in una qualche tappa intermedia della via, con servizi veramente molto simili al moderno sand my bag. C'era proprio, come starete capendo adesso, un'industria turistica in piedi, che gestiva appunto questa tipologia di spostamenti. L'altra cosa da fare era decidere una rotta. In Giappone c'erano un sistema di cinque arterie stradali principali che copriva tutto il Giappone centrale, come potete vedere in questo caso. Nel caso di una persona che come noi voleva viaggiare da Kyoto a Edo, le opzioni erano due. O il Nakasendo o Kisokaido, che era una via che percorreva il Giappone centrale, attraversando però zone montane, era un po' impervia. O il Tokaido. Il Tokaido era la via tendenzialmente più battuta, e anche quella più celebre, più rappresentata in arte e in letteratura, proprio per questa ragione, perché seguiva la costa ed era molto meno impervia. E si avevano a disposizione materiali, come questo tipo di atlante, che aiutavano a definire le rotte. Era un atlante che si potrebbe definire quasi uno stradario moderno. Si apriva con una mappa generale del Giappone e poi riportava all'interno mappe di ogni singola provincia giapponese, ce n'erano 66 in tutto, con, come vedete, principali città, villaggi, corsi d'acqua e rotte stradali, incluso appunto il Tokaido stesso. Se si seguiva il Tokaido, si poteva anche approfittare dei servizi offerti dalle sue stazioni di posta. Le stazioni di posta erano fondamentalmente nate come luoghi in cui cambiare i cavalli, per chi si muoveva a cavallo, cioè principalmente i samurai, ma si erano poi sviluppate in sorte di piccole città che offrivano tendenzialmente almeno una locanda chiamata Hongjin, in cui si fermavano solo i samurai, uno o più locande chiamate Hatagoia, che erano per le persone comuni, che somigliavano un po' a moderni ostelli, perché ci si fermava dormendo in camerate condivise con altre persone, e poi negozi di souvenir, ristoranti, tutti i servizi che potevano servire al viaggiatore, e anche servizi di logistica, come ad esempio quelli di spedizione di posta e di bagagli. Sul Tokaido esistevano 53 stazioni di posta distanziate circa dai 4 ai 12 chilometri l'una dall'altra, quindi era possibile viaggiare molto agevolmente servendosi appunto dei loro servizi. Sì, in queste prossime due immagini sono raggruppate le 53 stazioni, più la partenza, in questo caso da Edo, e l'arrivo a Kyoto. Questa serie è molto famosa, venne stampata tra il 1833 e 1834, come le prime edizioni, ma venne ristampata anche negli anni successivi, per molte volte. E' la prima opera importante di Hiroshige, che quando cominciò a collaborare con l'editore Oedo, era relativamente giovane e relativamente poco conosciuto ancora. Hiroshige era un abitante di Edo, era di classe samurai, non di livello elevato, in pratica faceva parte del corpo dei pompieri di Edo. e decise però di fare l'artista e quindi abbandonò il suo lavoro iniziale. In queste immagini, la prima in alto a sinistra, vedete c'è il ponte di partenze, il Neonbashi, quindi viene scelto di partire da Edo e andare a Kyoto e non viceversa. Poi ci sono tutte le successive stazioni, si possono dire molto rapidamente alcune cose, ci sono connotazioni di tipo atmosferico, quindi molto famosa, per esempio questa per la neve, alcune curiosità come questa del Monte Fuji, che esce dalla cornice, e quindi il Mesho viene visto proprio, in realtà non sarebbe possibile perché era molto più in distanza, però in questo caso il monte viene molto avvicinato. E poi ci sono anche interessanti notazioni, per esempio sui guadi, alcuni guadi venivano fatti soltanto attraversando a piedi, oppure sulle spalle di portatori o su portantine. alcuni guadi potevano essere fatti con dei battelli, quindi come un traghetto. C'erano zone di montagna, quindi questa per esempio era una zona dove si saliva molto in alto e poi si doveva ridiscendere. Ci sono alcune altre notazioni interessanti, qui per esempio c'è un lottatore di sumo che viene trasportato su una portantina aperta e quindi anche i lottatori di sumo potevano viaggiare, erano persone famose, atleti insomma, quindi erano come i nostri atleti famosi, e via discorrendo. C'erano poi anche riferimenti a leggende, per esempio qui c'era la leggenda del sasso che piange, Nisaka è una leggenda, ora non ho tempo di raccontarla, ma insomma quindi c'erano anche dei meisho legati a situazioni letterarie, storiche, eccetera, e quindi in parte ogni immagine rappresenta una serie di situazioni che possono variare molto appunto da un'immagine all'altra. Alcune cose interessanti, in questa qui per esempio si vede la locanda dove si fermavano i pellegrini, ci sono dei tratti in cui si vedono proprio delle navi che attraversano, perché c'erano alcuni tratti dove la baia veniva, si poteva attraversare la baia invece di fare il giro, quindi chi aveva soldi poteva andare in navi, in barca, attraversare e metterci meno o meno tempo. In generale poi ci sono alcune altre situazioni di meisho, cioè si vedono dei luoghi celebri, si vedono dei ponti in legno, si vedono anche altre situazioni, qui si vedono anche dei samurai che si spostano sotto la pioggia, eccetera, e l'ultima immagine è quella del Sangio Bridge, del ponte Sangio che è la tappa di arrivo, cioè Chioto. Ecco, questo per dare soltanto l'idea che questo è un inro, cioè è un contenitore per medicine che veniva portato appeso al lobby dagli uomini, era un oggetto in questo caso di lusso, molto elegante, molto costoso, e anche gli oggetti di questo genere venivano usati come pretesto per illustrare le varie stazioni. Quindi naturalmente su questo inro che è conservato al Mao non ci sono tutte e 53 le stazioni perché non ci starebbero, ma ce ne sono alcune e si vedono i nomi delle stazioni in piccoli cartigli che adesso a questa risoluzione, a questo ingrandimento non si riescono a leggere, ma comunque questo per dare un'idea che probabilmente un inro di questo genere poteva essere stato indossato da un personaggio importante perché era sicuramente un oggetto molto costoso e magari voleva, così, questo poteva essere un ricco mercante che aveva fatto tutto il percorso e voleva far vedere come segno di status che aveva percorso la Tokaido e se l'era potuto permettere e si era permesso anche un ricordo di questo suo viaggio. Una aggiunta, diciamo, a questo tipo di materiali è un strumento importante se ci si voleva muovere lungo il Tokaido erano le guide di viaggio, le guide turistiche. Una tipologia di guida particolarmente utilizzata e celebre soprattutto dalla fine del XVIII secolo, dalla fine Settecento, erano i Meisho Zue. Meisho Zue erano delle guide illustrate assolutamente non portatili, nel senso che normalmente le si consultava prima del viaggio a casa perché erano in più volumi, grossi volumi, peraltro, che però davano un'idea di tutti quelli che erano i Meisho lungo nell'area che si andava ad esplorare. In questo caso, appunto, Tokaido Meisho Zue illustrava i Meisho, i luoghi celebri del Tokaido e si andava da Utamakura, luoghi, appunto, celebri per associazioni letterarie, ad esempio il ponte di Amana, che peraltro non esisteva più al momento in cui Tokaido Meisho Zue venne dato alle stampe nel 1797, perché era un Meisho famoso cantato in poesia ma era crollato per via di un terremoto, ma l'editore decide comunque di inserirlo, perché appunto chi viaggiava sul Tokaido voleva vedere il luogo in cui era stato il famoso ponte di Amana, che era stato popolarizzato da materiali appunto di questo genere e poi si andava a Meisho, si arrivava a Meisho più mondani, come ad esempio in questa immagine si mostra la stazione di posta di Mishima che era famosa per le sue prostitute che vengono appunto mostrate all'interno del testo. Stefano, se volevi aggiungere? Questa è la stessa stazione, Mishima, direi che in questo caso molto rapidamente l'atmosfera è mattutina, cioè i viaggiatori si sono appena messi in viaggio, la nebbia mattutina non si è ancora dispersa, quindi è mattino presto e qui si vede che alcune persone viaggiavano naturalmente a piedi, ma era possibile usare cavalcature, naturalmente i sapunrai avevano cavalli, ma c'erano anche altri tipi di quadrupedi che venivano usati, si potevano anche affittare per brevi tratti, comunque c'era un sistema di noleggio di trasporto e un altro sistema era quello di viaggiare in cago, cioè in questa portantina aperta, che però normalmente diciamo che le donne viaggiavano qualche volta in portantina aperta, oppure persone anziane, persone malate, eccetera, le persone che avevano a modo di muoversi facilmente e senza problemi naturalmente camminavano. Una cosa che permetteva diciamo di viaggiare più agilmente erano appunto le guide di viaggio e permettevano anche di sfuggire alle grinfie degli imbonitori. Un problema lungo il Tokaido è che di fronte ai principali esercizi commerciali, soprattutto i ristoranti e locande si affollavano gli imbonitori, soprattutto donne, le cosiddette tomeonna, che appunto illegalmente peraltro, perché in teoria era un tipo di competizione commerciale non permesso, cercavano di attirare clienti a volte anche in esercizi commerciali di dubbia, fama e avevano un atteggiamento come leggete in questo passaggio appunto di Zacurighe, spesso anche piuttosto aggressivo nei confronti dei clienti. Da questo punto di vista, per scegliere dove mangiare, dove comprare souvenir e quant'altro, non erano tanto utili guide come i Meisho Zue quanto piuttosto guide come questa, i cosiddetti dociuchi, che come vedete non sono visivamente belli come i Meisho Zue, sono soprattutto costituiti da testo, ma oltre a mostrare in modo molto schematico la rotta del Tokaido, questo è dedicato appunto al Tokaido, elencano, questi sono gli elenchi dei nomi delle stazioni di posta partendo da Nihombashi, quindi anche qui da Edo, con tutti i prezzi che ci si poteva aspettare per i servizi sulla via e i nomi dei principali esercizi commerciali raccomandati. Questi erano guide tascabili invece al contrario dei Meisho Zue quindi le si poteva portare appunto direttamente in viaggio. Stiamo esaurando il tempo ma vorrei concludere, vorremmo concludere questa presentazione mostrandovi una carrellata di alcuni luoghi celebri sulla strada diciamo da Kyoto a Edo, in particolar modo una zona molto battuta dai viaggiatori era la zona attorno al lago Biwa non lontano come vedete da Kyoto che era una zona celebre per una serie di località. In primo luogo il Monte Ikei che era un monte che appunto incombeva sul lago e sulla città di Kyoto e in cui si trovava un tempio lo Enriacoji fondato nella nono secolo e che era uno dei più antichi templi buddhisti giapponesi era luogo di pellegrinaggio è tuttora luogo turistico molto molto celebre per chi si trova a Kyoto e aveva una sua sezione dedicata appunto all'interno di Tokaido Menshozue con una doppia pagina dedicata alla vista sul Monte Ikei e una pagina dedicata alla vista dal Monte Ikei una cosa divertente è che si vede all'interno di questa veduta il Monte Fuji il Monte Fuji non era assolutamente visibile dal Monte Ikei ma ancora una volta un Meisho si dà importanza a questo Meisho uno dei più rinomati del Tokaido infilando anche dove non dovrebbe essere su questo torneremo appunto anche nel corso del terzo incontro per cercare di capire le ragioni editoriali dietro questa scelta un'altra zona celebre sulla Lago Biwa era Omi Omi era una provincia appunto che si affacciava sul Lago Biwa e che era famosa per le sue vedute paesaggistiche perché era una meta naturalistica molto amata e cosa che diede vita nel corso di tutto il periodo Edo alla produzione di stampe di paesaggio le cosiddette i cosiddetti otto panorami o otto appunto viste su Omi il genere degli hake degli otto panorami era un genere che era stato importato in Giappone dalla Cina nel XIV secolo un genere sia artistico che poetico in cui normalmente una veduta veniva associata a una poesia a una determinata stagione a un determinato momento della giornata non esistevano solo le otto vedute di Omi esistevano ad esempio anche le otto vedute di Edo ma era Omi era una delle località più rappresentate qui rapidamente vi proponiamo una versione di Roshig che ne è realizzata più di una in cui troviamo per l'appunto quello che ci ha appena detto Sonia abbiamo una veduta di Omi in particolare associata in questo caso all'inverno il momento raffigurato è la sera e come vedete leggete la poesia sulla destra e il paesaggio reso magistralmente in questa scena invernale è quasi immobile e ovattata grazie al candore della neve resa da Ioshige una cosa interessante della stampa che vi ho mostrato poco fa è che associata alle viste alle vedute su Omi in questa stampa c'è anche questa rappresentazione di quella che era invece una leggenda popolare di Omi quindi letteratura alta associata a letteratura popolare come è tipico appunto della popolarizzazione del passato letterale del periodo Tsukugawa in questo caso si mostra un eroe locale Fujiwara Noihide-Sato che combatte contro questo millepiedi gigante la leggenda voleva che Fujiwara Noihide-Sato fosse stato incaricato di farlo da un re drago che risiedeva in un palazzo sotto le acque del lago Biwe che poi ricevette in cambio della sua diciamo o impresa una borsa di riso in cui il riso si autorigenerava continuamente e il millepiedi di Omi è un po' l'equivalente del lago Biwa del mostro di Loch Ness se vogliamo quindi potete immaginare il viaggiatore di periodo Edo che camminava sulle sponde del lago Biwa cercando il millepiedi un'altra località veramente molto brevemente non lontana da Omi era il santuario di Ise che va menzionato perché era la tappa dei pellegrinaggi in Giappone all'epoca era uno dei santuari più visitati non solo perché era associato ad Amaterasu Omikami che era la divinità al vertice del pantheon scintoista una divinità solare ma anche per il fatto che si vendeva commercialmente molto bene era associato a dei performer religiosi il santuario di Ise quelli che si chiamavano Osci che esistevano anche per il Fugine ne riparleremo che viaggiavano nei territori attorno a Ise portando souvenir legati a Ise eseguendo delle performance religiose pensate per attirare i pellegrini non solo questo ma anche collaboravano con appunto le confraternite religiose le confraternite legate a Ise erano veramente diffuse in tutto il Giappone per attirare appunto pellegrinaggi e il pellegrinaggio a Ise era un'esperienza che tendenzialmente almeno una volta nella vita si faceva persone che risiedevano a Kyoto spesso viaggiavano anche 4 o 5 volte tanto che non era così lontano da Kyoto e pensate che agli inizi dell'Ottocento si stima che normalmente ci fossero circa 50.000 visitatori l'anno a Ise ogni anno e in occasione degli Okage Mairi come l'Okage Mairi del 1830 di cui vi parlavo prima fino a 5 milioni di visitatori in un solo anno quindi una veramente un'industria turistica e incentrata appunto su Ise molto brevemente spostandoci dal lago Biua lungo il Tocadio si sarebbe seguita questa rotta questa mappa è una delle mie mappe preferite alla Rylands e rappresenta appunto le 13 province da cui è visibile il Monte Fuji ve la propongo brevemente ma ci torneremo nel terzo incontro e qui venivano appunto presentate tutte le rotte che convergevano su Edo nella zona del Kanto cioè la zona del nord-est del Giappone questo puntino rosso che vedete qui è appunto la città di Edo questo è il Fuji ovviamente il Fuji la proporzione fra Edo il Fuji è assolutamente sballata ma questa è una mappa tematica incentrata sul Fuji quindi gli si dà appunto preeminenza e attraversando appunto lungo il Tocadio lungo le stazioni di posta che il dottor Perino e il dottor Turino avevano mostrato prima sarebbe percorsa questa via quest'era e si sarebbe giunti a Edo e precisamente a Nihombashi che come menzionava prima il dottor Perino era il punto di partenza da Edo il punto di arrivo se si arrivava da Kyoto e una zona molto centrale di Edo che era piena di vita a qualsiasi ora del giorno e della notte Edo pensate che nasceva come un piccolo villaggio in cui c'era questa vecchia fortezza che i Tokugawa fecero ristrutturare ne fecero il loro quartier generale ma già alla fine del 600 era una metropoli di più di un milione di abitanti quindi era una metropoli che sprizzava vita e attività e anche vita culturale e vita notturna arrivati a Edo quello che si poteva fare come viaggiatori era o affidarsi a una guida umana esistevano tour guide che facevano fare dei appunto dei percorsi interni a Edo nei mesi o più famosi oppure ci si poteva servire di o stampe paesaggistiche come questa o mappe come questa che mostravano i punti forti della città di Edo anche qua il fuggidomina ne riparleremo appunto nella terza lezione ma era una mappa pittorica in questo caso una specie di ibrido fra mappa e dipinto che mostrava appunto i punti chiave i meisho di Edo e anche gli elementi che caratterizzavano l'atmosfera della città il dominio dell'acqua il dominio del verde la centralità della cittadella dei Tokugawa che è centrale anche in questa mappa la stragrande maggioranza delle mappe di Edo che vedrete hanno il castello al centro e sono orientate a ovest perché a ovest c'era Kyoto quindi si usava come punto di orientamento come segno di rispetto nei confronti dell'imperatore queste mappe erano aggiornate in modo super frequente qui ad esempio nel colofone c'è scritto che la mappa era ristampata aggiornata ogni mese e davano centralità agli elementi appunto focali della città normalmente rappresentavano in forma pittorica templi, santuari altri meisho della città e davano appunto sempre centralità alla cittadella dove risiedevano dove risiedeva la classe dei samurai che era anche oggetto di una certa curiosità da parte delle persone comuni tantissime mappe dell'epoca riportano in dettaglio le yashiki le residenze dei guerrieri associate agli stemmi delle famiglie e talvolta anche ai possedimenti di ogni singola famiglia c'era curiosità nei confronti della classe dominante come oggi forse noi potremmo avere curiosità nei confronti di persone celebri abbiamo deciso per chiudere appunto a questo nostro viaggio di proporvi come vedute di Edo le 100 vedute celebri di Edo realizzate da Hiroshige e in parte dal suo successore Hiroshige II e abbiamo deciso di mostrarvi queste stampe che in parte non tutte sono anche ospitate presso il Museo dell'Auto Oriente all'editorino perché sono stampe che vengono pubblicate nel 1856 quindi quando il Giappone ha avuto già i primi contatti con il Commodore Perry e quindi con gli Stati Uniti e l'Europa in questo caso sono stampe che diventeranno subito celebri anche presso presso gli occidentali i primi visitatori che arrivano alla riapertura del Giappone e in questo caso abbiamo una una veduta di una strada in particolare di un di un grande magazzino Mazzuccaia che ancora oggi è tutt'oggi esistente questa stampa viene realizzata nel 1856 e mostra il grande magazzino che era stato ricostruito dopo il terremoto del 1855 quindi vedete che anche queste vedute che diventano poi per l'appunto nuovi meisho meisho contemporanei sono sono anche un modo per fare pubblicità appunto a queste attività un'altra un'altra veduta che vi proponiamo e che ci permette di collegarci all'uchie iniziale di Oxai e questa veduta sempre